I boom da basci in copertina oggi su Me Tomorrow, giovedì 4 luglio, lunga intervista, il colloquio su doppia pagina con il direttore Christian Pradelli, uno dei fenomeni del momento, la band Salentina che tanto ha riscosso successo a Sanremo con l'ultimo singolo per un milione che ancora gira nelle rotazioni radiofoniche in Italia. E ancora da Me Tomorrow di oggi per quanto riguarda la salute vi raccontiamo tutte le accortezze da adottare per l'uso dei condizionatori di notte, soprattutto in questi giorni dove il caldo si fa particolarmente sentire e ancora come i ragazzi di campagna perché da domani a domenica al Parco Sempione, il villaggio della Coldiretti, vi presentiamo tutte le novità e le cose da scoprire direttamente dagli agricoltori. Questo è il numero di Me Tomorrow in distribuzione a Milano ma attenzione perché oggi c'è un'altra cosa in distribuzione, un altro Me Tomorrow in distribuzione a San Siro, il pocket dedicato a Biagio Antonacci e Laura Pausini con le due date appunto allo stadio Meazza.